A metà anni 80 ogni casa automobilistica degna di rispetto aveva all'estino almeno una versione sportiva della propria utilitaria o della propria media di successo. Ogni marchio perseguiva una strada personale per la resa estetica e per la ricerca di prestazioni, grossi carburatori, aumento della cilindrata, sovralimentazione tramite turbo o volumetrico, distribuzione a 16 valvole. La Peugeot aveva già all'estino due versioni sportive della 205 o meglio due e mezzo. Infatti alle velocissime GTI 1.6 e 1.9 si affiancava la XS molto brillante e divertente. Ma evidentemente non bastava. Così a febbraio 1988 al Salone di Ginevra la Casa del Leone spiazza la concorrenza e mette sul mercato una nuova variante sportiva della sua piccola di successo. Si chiama 205 Rally ed è pensata espressamente per le gare. È una vettura volutamente spartana, essenziale, sviluppata dalla Peugeot Sport con l'unico scopo di creare un modello da omologare nelle competizioni di gruppo N e gruppo A. Un progetto nato con l'obiettivo di realizzare una vettura affidabile, competitiva ma economica per poter avvicinare gli appassionati alle corse. Offerta in una sola tinta ha una dotazione francescana al fine di abbassare sia il peso che il prezzo. Anche la cilindrata è ridotta, così come la sezione delle gomme, per limitare i costi di gestione. Internamente non c'è nulla di superfluo, anzi, qui si è andati sul pesante nel rendere spartano l'ambiente e spariscono perfino le bocchette di aerazione centrali. Alla guida trasmette emozioni vere, le prestazioni sono elevate, il comportamento reattivo. È un successo. Inizialmente, a marzo 1988, viene commercializzata solo in Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda. In Italia e nel resto d'Europa arriva tra aprile e maggio dello stesso anno. In Peugeot si pensa di costruire gli esemplari necessari per ottenere l'omologazione per le competizioni e poi valutare l'opportunità di continuare la serie. Ma grazie anche a un listino accessibile, intorno ai 14 milioni di lire, i 5.000 esemplari vengono venduti nei primi soli sei mesi di commercializzazione e la produzione della 205 Relly prosegue fino a novembre 1992, quando, bloccata dalle eminenti normative antinquinamento, viene pensionata, dopo 30.111 esemplari costruiti, con grande disappunto dei tanti appassionati che avevano avuto modo di conoscerla a fondo. E ora, conosciamola a fondo anche noi. La linea azzecatissima della 205, nata nel centro stile Peugeot guidato da Gerard Welter, nella variante a tre porte è ancora più accattivante grazie al particolare disegno del montante posteriore. La Relly esalta la dinamicità del design grazie alla verniciatura monocolore e alle modifiche estetiche. I paraurti, ripresi dalle versioni GTI, sono realizzati in pasta, cioè in materiale già colorato in origine. Quello anteriore, al posto dei fari supplementari, ha due vistose prese d'aria per i dischi freno. In coda viene eliminata la modanatura a rilievi orizzontali tipica delle 205, che lascia in vista la lamiera del portellone. Ai passaruota compaiono inediti parafanghi supplementari, tipicamente racing. L'unica tinta disponibile è il bianco Meille, che colora anche i cerchi in lamiera da 13 pollici. Su alcuni esemplari commercializzati in Italia tra fine 1989 e primi mesi del 1990 erano montati copriruota bianchi a fori rotondi. Completano la caratterizzazione della carrozzeria la bandella adesiva con livrea Peugeot Sport, esibita sulla mascherina e sul portellone, e più sottile sull'incavo longitudinale della fiancata. Il piccolo logo Peugeot Sport sui parafanghi anteriori e le scritte adesive 205 relli sul lato destro del portellone e 1.3 relli sulle modanature applicate ai montanti posteriori. Il contrasto rosso e nero domina la vista interna, alternato dall'antracite della plancia dei pannelli porta e dal bianco delle lamiere in vista. Rosse sono la mochetta e le cinture di sicurezza. Nero è il velluto che riveste i sedili, strutturalmente uguali a quelli delle GTI. Le cuciture sono rosse e il logo Peugeot Sport è ricamato sugli schienali. Logo che compare anche sul tappo centrale del volante, lo stesso tre razze delle GTI ma con corona in plastica. La plancia è quella delle versioni base della 205, priva di sportello al vano portaoggetti e di console centrale. Sono state eliminate anche le bocchette di aerazione centrali. La strumentazione è essenziale, quattro elementi con la grafica della GTI e illuminazione arancione. Il piccolo pomello del cambio, ben impugnabile, ha un riuscito disegno. L'abitabilità è buona, soprattutto davanti. Il posto guida è ergonomicamente riuscito. Le finiture sono discrete, la verniciatura e gli assemblaggi sono ben eseguiti, ma i materiali sono economici e soggetti a invecchiare precocemente, soprattutto la consistenza dei tessuti, le plastiche interne e le lancette della strumentazione. Il bagagliaio, abbastanza capiente, ha solo un tappeto inferiore di rivestimento. La dotazione di sedi è essenziale. In pratica ci sono solo il nonotto termico, i vetri posteriori apribili a compasso e l'accendisigari. Non c'è nemmeno lo specchio esterno destro e non sono previsti accessori a richiesta. La base meccanica è quella della 205 GTI 1.6, dalla quale la Rally riprende le sospensioni e l'impianto frenante. Le sospensioni sono modificate nelle tarature. La maggiore campanatura a terra allarga la carreggiata anteriore di 8 mm, migliorando precisione e stabilità dell'avantreno. L'impianto frenante ha dischi autoventilanti davanti e tamburi al retrotreno con doppio circuito frenante. La più grossa novità è sotto il cofano. Il motore, derivato dal 1124 cm3 della nuova famiglia TU, è denominato TU24. Ha cilindrata portata a 1294 cm3. È il motore che ha esordito sulla esplosiva Citroen X-Sport, sviluppato con la collaborazione dello specialista Danielson. È adeguatamente strutturato per un eventuale utilizzo in gara. Sono specifici pistoni e camice, albero motore e asse a camme. È anche dotato di un collettore di aspirazione apposito e radiatore dell'olio. Ma la peculiarità sono i due grossi carburatori doppio corpo Weber da 40. È un motore dall'elevato rapporto di compressione e una notevole potenza specifica. Dichiara 103 CV a 6800 giri e una coppia di 12,2 kg a 5000 giri. Il limitatore è tarato a 7100 giri. L'alternatore è maggiorato a 1000 Watt, in predisposizione all'utilizzo agonistico. Il cambio MA5 rinforzato ha rapporti specifici, scalati per sortare al massimo la coppia del motore. I cerchi in lamiera da 13 pollici, con canale da 5 pollici e mezzo, ospitano pneumatici Michelin MXV 165-70 HR-13. La vettura, dopo il trattamento di alleggerimento che ha interessato anche il materiale insonorizzante, dichiara sulla bilancia 790 kg con pieno di carburante. La casa dichiara una velocità massima di 190 km orari e accelerazione da 0-100 km orari in 9,6 secondi e sul chilometro da fermo in 31,4 secondi. Il consumo medio dichiarato è di 13,4 km con un litro. In coda al video, scheda tecnica ed elevamenti strumentali delle prestazioni. In questa piccola belva, tutto è pensato per trasmettere emozioni e sensazioni senza filtro. È una delle auto a trazione anteriore più pure che sia mai stata realizzata. Un assetto studiato nei minimi dettagli per permettere di sentire anche la più piccola reazione della vettura ai comandi e alle condizioni della strada. Così come è studiato nei dettagli il posto guida, uno dei migliori mai realizzati su un'utilitaria. Sedile ben profilato, con seduta bassa, schienale ben regolabile, comandi principali ben allineati. Il volante si impugna bene, così come il pomello del cambio, alla giusta distanza. La visibilità è eccellente in ogni direzione e anche i fari, potenti e ben regolati, contribuiscono alla migliore esperienza di guida. La messa in moto, soprattutto a caldo, è un po' laboriosa a causa dei grossi carburatori, ma una volta acceso il propulsore ha un suono in carattere tipici dei motori da gara. Sale di giri con incredibile vivacità, accompagnato da un suono principalmente di aspirazione, gradevole e aggressivo. Gli input del pedale dell'acceleratore sono immediati e ogni movimento ha una reazione al millisecondo sul contagiri. Questo però solo su esemplari ben carburati, perché la complessità e le dimensioni dei carburatori li rendono problematici da registrare a dovere e meteoropatici. Soprattutto sui primi esemplari si manifestarono diversi inconvenienti, principalmente difficoltà di avviamento, soprattutto a caldo, vuoti in accelerazione, a tenere il minimo e consumi elevati. La causa era da imputare anche alle regolazioni effettuate prima della delibera, al fine di rispettare i parametri di emissione, regolazioni che strozzavano parzialmente le potenzialità del motore. Partessa Peugeot, tramite la rete assistenza Weber intervenne più volte per risolvere i problemi, con nuove tarature e anche interventi fisici, con modifiche alla cassa filtro e ai carburatori stessi. E i risultati erano notevoli, con riscontri prestazionali decisamente migliorati. Gli esemplari a punto coprono lo 0 a 100 in circa 9 secondi netti. Nonostante i grossi carburatori, i consumi, soprattutto a velocità costante, sono abbastanza economi, con punte di oltre 18 km con un litro a 90 all'ora. Ovviamente, nell'uso sportivo salgono. Lo sterzo è preciso e diretto, quasi perfetto per una vettura così reattiva, e anche abbastanza leggero in manovra. Il cambio ha un'ottima manovrabilità e rapporti davvero ben scalati. La prima è più corta rispetto alle GTI, mentre le altre marce sono ravvicinate. La frenata è la componente meccanica più deludente. Questo non significa che l'impianto non sia efficace. Nell'uso normale si rivela potente e resistente. Non ha spazi d'arresto da primato, ma comunque comunica una buona affidabilità. La loro vera pecca è quella di non essere all'altezza di quella, elevatissima, delle altre componenti meccaniche, ma comunque garantiscono la giusta sicurezza. E veniamo al comportamento di questa piccola belva, spesso criticata ingiustamente. È sicuramente una delle migliori esperienze di guida con una vettura a trazione anteriore. Leggera, diretta nei comandi e immediata nelle reazioni, nonostante una gommatura da city car, permette prestazioni esagerate, soprattutto nei percorsi guidati, dove, presa con la giusta malizia, diventa una brutta bestia per tante auto, anche molto più potenti. L'inserimento è immediato e una volta dentro la curva segue fedelmente la traiettoria impostata e accetta le correzioni con grande dinamismo. Il sottosterzo è minimo, il rollio è praticamente inesistente. Il retrotreno, come tutte le piccole di scuola francese, è facile alla sbandata, la cui rapidità e il raggio d'azione sono direttamente proporzionali alla velocità di percorrenza e a quella con cui si alza il piede dal gas, ma lo sterzo e l'assetto permettono un controllo ottimale, istintivo, ovviamente per chi non si fa spaventare da reazioni così nervose. A suo tempo fu giudicata da tanti come troppo reattiva e instabile, ma la realtà è ben lontana. È una vettura estrema che necessariamente ha reazioni veloci che richiedono nervi saldi, ma nelle mani giuste è semplicemente perfetta. È una di quelle auto magari da sconsigliare come primo passo verso le auto sportive, ma una volta acquisita la giusta sensibilità permette di apprendere per bene i segreti della guida con il coltello tra i denti. Anche sul bagnato resta molto sincera, ma le reazioni sono più accentuate e richiedono riflessi davvero pronti. E per finire, il tutto è accompagnato da un piacevolissimo sound, genuino e generoso, che amplifica il ventaglio di emozioni sensitive e questa piccola teppista riesce a trasmettere senza alcun filtro. A luglio 1990 l'intera gamma 205 è oggetto di un leggero restyling. Tra tutte, la rally è quella che cambia meno. In pratica, solo gli indicatori di direzione frontali, ora trasparenti, e i gruppi ottici posteriori, che prevedono lo spostamento della luce di retromarcia in basso a fianco alla targa. Finalmente monta di serie lo specchio retrovisore destro. Per il resto è invariata. Marzo 1989, Salone di Ginevra. La Peugeot presenta la 205 Rally 1009. Nasce dall'esigenza di commercializzare la rally in Germania e Svizzera, mercati con normative antinquinamento più severe che impediscono la commercializzazione di vetture non catalitiche e non catalizzabili. Per cui, il 1.3 a carburatori lascia il posto al 1.9 derivato dal propulsore della GTI 130 cavalli. Dotato di iniezione elettronica Bosch JO2 e catalizzato, dichiara una potenza di 102 cavalli a 6.000 giri e una coppia di 14,5 kg a 3.000 giri. Il cambio a rapporti rivisti, con prima e seconda più lunghe e quarta e quinta leggermente più corte. Il resto della meccanica è invariato. Il peso dichiarato è di 860 kg. Esteticamente e internamente è identica alla 1.3, a parte l'interruttore per la regolazione in altezza dei proiettori anteriori, lo specchio destro e il tergiro 1.8 offerti di serie. La Peugeot dichiara una velocità massima di 190 km orari e accelerazione da 0 a 100 in 9 secondi e mezzo. Le sensazioni di guida sono invariate, ma manca un po' di quella cattiveria che personalizza la 1.3. A luglio 1990 viene aggiornata come il resto della gamma. La Rally 1.9 è stata commercializzata in circa 1.000 esemplari. Sulla base della 1.9 Rally, lo specialista in elaborazioni ufficiali Peugeot, Gutmann, famoso per le sue 205 GTI 16 valvole e turbo, realizza la Rally 1.9 16i. Dotata del motore 1.9 contestata a 16 valvole derivata dalla 405 MI16. Dichiara 160 CV a 5.800 giri e una coppia di 18 kg a 5.500 giri, valori che, abbinati a un peso di soli 850 kg, promettono prestazioni esplosive. Gutmann dichiara una velocità massima di oltre 220 km orari e accelerazione da 0 a 100 in 6,9 secondi. Lo scarico completo, realizzato dalla Sabring, prevede a richiesta differenti soluzioni per il terminale. Modificato anche l'assetto, grazie ad ammortizzatori più rigidi, molle ribassate di 35 mm e barra d'ume all'avantreno. Incompressibilmente, l'impianto frenante resta invariato. I dischi all'avantreno e i tamburi al retrotreno vengono messi alle corde dal notevole incremento di prestazioni. La batteria è montata nel bagagliaio. I cerchi da 15 pollici hanno canale da 6 con pneumatici 185 e 55, disponibili a richiesta cerchi 7x15 con pneumatici 195 e 50. A richiesta era anche possibile avere 4 differenti soluzioni per il rapporto finale del cambio, oltre a diverse caratterizzazioni per carrozzeria ed interni. presentata a settembre 1991 è stata prodotta in 200 esemplari. A fine video le prestazioni rilevate. Nel 1990 la Italdecnica, il laboratorio ufficiale in Italia delle Peugeot da gara, ha pronto un kit specifico per la Rally 1300, frutto dell'esperienza acquisita in anni di gare con questa vettura. Il kit prevedeva modifiche al motore, con albero a cammeri profilato, reggi molla di ferenti, nuovi particolari per la taratura dei carburatori, accensione elettronica ottimizzata e l'intero impianto di scarico, dai collettori fino al terminale realizzato dalla SuperSprint. Per finire, un convogliatore che isola termicamente i carburatori è limitatore tarato a 7200 giri. La potenza rilevata è di 118 CV a 7000 giri, con un incremento della coppia a un minor numero di giri, 13,4 kg a 4800. Le prestazioni migliorano notevolmente e il risultato, a fronte di una richiesta economica inferiore ai 2 milioni di lire, è eccellente. A richiesta era possibile avere un assetto sportivo più estremo, ma in tal tecnica ritenevano più che adeguato il setup originale. A fine video, le prestazioni rilevate. A fine 1993, quando sulla Rally originale era calato il sipario da un anno, la Peugeot presenta una nuova versione, specifica per il mercato inglese. È una serie limitata di 830 esemplari, realizzata sulla base della XT1004. Riprendeva alcuni elementi stilistici della Rally 1003, come le prese d'aria al paraurte anteriore e i cerchi in lamiera, ma anche le bandelle adesive sulla mascherina, mentre ne venivano aggiunte sui passavoto anteriori e posteriori. Era disponibile in tre colori, 500 esemplari bianco-meglie, 250 giallo-express, 80 blu. All'interno gli stessi sedili e lo stesso volante della Rally, abbinati alla strumentazione più semplice della prima serie della 205 e alla moquette grigia, di serie l'autoradio Clarion. La meccanica era quella standard della 205 XT catalizzata, con il propulsore TU da 1360 cm3 e 75 CV, che la spingeva a 172 km orari e permetteva di andare da 0 a 100 in circa 12 secondi. Nata espressamente per l'impiego agonistico, la 205 Rally ha avvicinato e accompagnato migliaia di giovani piloti al mondo delle corse. Per anni ha monopolizzato la classe fino a 1.300 nei Rally, nelle cronoscalate, in pista e negli slalom, sia in gruppo N che in gruppo A, riuscendo spesso a stare avanti a vetture di classe più potente e in seguito anche alla sua erede, la 106 Rally. Le gruppo N erano praticamente auto di serie, mentre sulle A si riuscivano a ottenere potenze intorno ai 130-140 CV. La stessa Peugeot incentivava gli aspiranti piloti, con forti sconti sul listino della vettura e sui ricambi, e in base ai risultati a fine stagione con rimborsi e premi. Il kit di trasformazione era curato dalla Italtecnica. A fine omologazione la 205 Rally ha continuato a presenziare e vincere nelle salite e negli slalom. Negli ultimi anni è tornata a correre nelle gare storiche. È una delle migliori rappresentanti della famiglia delle piccole pesti che da metà anni 80 hanno coronato il sogno di tanti giovani appassionati e alimentato gli incubi dei loro genitori. Non è la più potente e nemmeno la più veloce, ma sicuramente la più pura ed essenziale e in quanto a carattere ha pochi rivali. Lo stesso carattere che invitava chi era dietro al volante a spingerla al limite e anche oltre, con conseguenze spesso delle terie. Per questo motivo, e per il massiccio utilizzo in gara, trovare un esemplare in ordine o originale è davvero difficile. Gli esemplari conservati hanno raggiunto quotazioni importanti. Auto da ripristinare se ne trovano e il restauro è giustificato sia in termini economici che per valore storico. Da tenere presente che alcuni particolari specifici sono quasi introvabili. Non va nemmeno sottovalutato l'aspetto ludico dell'auto in oggetto. Su strade alle congeniali, ancora oggi, è una dispensatrice di emozioni e sensazioni che le auto degli ultimi vent'anni hanno smarrito irrimediabilmente. Grazie a tutti.